Oh, adesso comincia il vero gioco Che diamo fa tutto? Apri? Non si apre Forse è qua Che cazzo è sta roba? Uh, è un kit medico Che hai detto? Che hai detto? Io sarò qui Eh, aspetta i tuoi colleghi allora Però dimmi dove devo andare io Deve essere bloccata Non può fare niente qui Qua si scende, forse è qua adesso Oh, no Il cazzo si va Questa prima era aperta? Boh, forse no Forse sì, non mi ricordo Non sono mai stato qui No, forse sì Oh, no Forse è vivo Questa bestia è viva Questa è chiusa Forse qui non sono mai stato Decisamente non sono mai stato qui Mortacci sua Cazzo di merda Sì, ma con le munizie Dove le prendo le munizie Quando le ero finite? Perché presto le avrò finite Ok Che cazzo era? Oh, Gesù Proviamo la canata Prima che mi ammazza Per favore Niente Non sono mai stata un'idea Tanta vita Mi sono fatto togliere St'idioto Carino Ah, qui c'è un altro Morto Barra morente E qui qualcosa di buono C'è No Niente di utile Forse è qua dentro Munizioni E basta Tutto qua Tu Sei morto Chi è questa bestia? Oddio, dove sono caduto? Non volevo cadere qua sotto E come è fatta bene l'acqua Però, merda Corri No, la canata me la tengo Però anche i colpi Non ne ho tantissimi Beh, vabbè Ma io non ce la faccio Così, però Ah, è morto solo Che coglione A parte che parlo io Non pensavo fosse così difficile Half-Life Got some Got some Got some Oh, merda Oh, merda Oh, merda Ah, forse ho trovato Forse Senza il forse È qui che devo venire Allora, facciamo così Forse ce l'ho fatta Oh, merda Oh Ok A questo punto Devo andare qui Ecco qua Oh, oh Salve Non si può morire così Vai Vai, con uno di vita Ma so che ce la posso fare Calma Dov'è? Non c'è più Perché non c'è più? Mi stavi offendendo? Buono Ho preso la vita Comunque Creduto chiuso Chiuso Caricamento Tra l'altro ho visto Negli scorsi video Che voi non vedete La scritta caricamento Non so perché Nei video non si veda Comunque c'è scritto Caricamento Allora, al centro Dello schermo In questo che posto è? Non posso entrare In nessuna parte Qui c'è qualcuno però Non si può entrare Votariamo sulla piattaforma Allora Eh Manco questo Si può fare Che palle però Non posso fare nulla Questo non posso fare Ovviamente lì Non ci passero mai No Ah Forse lì Devo arrivare Forse No Salta troppo poco Non è così Ma questo Cazzo è Fuori Ok Ma non salta È 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 Quindi cosa abbiamo qui? Una fantastica tazza? Bella Poi Un quadro elettrico Ah questa me la ciuccio tutta Vai 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 Buona E basta Porte chiuse, porte chiuse, porte chiuse, porte chiuse, porte chiuse Ora On Anche le porte si aprono E forse possiamo scendere Eh si Stavolta possiamo scendere Ma che cazzo Guarda sti cosi Dov'è? Dov'è? Dov'è andato? Però sono vivo Sono magicamente vivo Ma adesso verrò schiacciato Potevo essere vivo Ovviamente non so capire però Siamo arrivati, siamo arrivati Siamo arrivati Vaffanculo io mi butto 22, mi hanno tolto quasi tutta la vita queste bestiacce Ancora sono vive Basta 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 17 Mortacci tua ho 12 Muori Sì Oh no Dai un po' scorre così Finiti Due di vita Chi è imminent? Vediamo se mi serve imminent Un po' di vita Un medico qualcosa Non deve esserci gente morta Non deve esserci gente morta Non deve esserci gente morta Solo gente morta Oh eccolo Eccomi Ah Mo si Good Tutto chiuso ovviamente Si potrebbe andare qui Sicuramente ci sarà qualcosa Vediamo Ma anche no No infatti L'acqua è fatta veramente bene comunque Se consideriamo comunque Il motore non è proprio È un po' da dato ormai il source Anche se fa ancora grandi cose No no Cazzo Com'era che ci si sporgeva? Eh vabbè E adesso cosa diavolo dovrei fare? Mi butto Vabbè Ok è stata una pessima idea Eh no Forse devo sbrigarmi Questo è quello che devo fare Minchia mi ha sparato via Oh scusate Mi si era stoppata la registrazione E quindi Vi faccio vedere Perché l'avevo staccata Perché non riuscivo a capire cosa dovevo fare Sono stato 10 minuti a tentare di provare Quando ho capito cosa dovevo fare Mi sono dimenticato di riattaccare la registrazione Quindi Niente Esplicemente dopo aver provato in tutti i modi A saltare A sparare a quel coso lì che esplodeva A cercare scale Via alternative Mi è venuto in mente che forse potevo salire su quei dubbi Che forse non erano soltanto ornamentali E infatti così è stato da lì Mi sono salito sui dubbi Sono saltato di qua E sono venuto qua in questo condotto Semplicemente mi ero scordato di attaccare di nuovo La registrazione Altrimenti L'avevo sospesa altrimenti veniva un video lunghissimo Mentre continuavo a fare tentativi Ecco tipo qui si potrebbe scendere Ma si potrebbe scendere anche qui Io però voglio andare qua Così in caso qui si scende ancora C'è una scala scendiamo Cazzo C'è una porta che non si apre Ah si si apre Che bestia è quella? La stanno attaccando Oh c'èla con me Mortacci sua Vita 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 Questo ovviamente è chiuso Oh non uccidermi Stupida bestia Aberrante bestia E' morta Mi ha spalmato di questa roba florescente Ma poi è morta Mmmmm Mica dovrò attraversare a nuoto? Noooo Che palle Voglio morire I colpi, i colpi Guarda che ce ne ho Che si muore così? Lì è aperto Ok Perché questo va a fondo di continuo? Una scala Aprite Un altro morto Roba udile non ce n'è Oh si che ce n'è Vai 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 Buona E qua E siamo dall'altra parte Eccoci qua Adesso Questi sono esplosivi Lasciamoli stare Guardate che carino Una strana bestia La porta Ma esistono anche ambienti esterni in questo gioco? Riuscirò mai a uscire dalla base? Oppure Oppure lo scopriremo solo giocando Quest'ambientazione comincia un po' a stancarmi Se devo dirla tutta Nooo Non è quello che penso vero? Ok Spero non mi facciano fare una Pallosissima fase platform In cui devo saltare di scatola in scatola Perché potrei diventare pazzo C'è una musica strana Una porta chiusa Una sala comandi Di qua c'è una porta che sarà Non può essere chiusa pure questa Dai Ma che dici davvero? Ma che palle Sti comandi ignobili Sai quante volte muoio? Ecco Cominciamo Ok ci sono E dai però E dai però Mamma mia Vabbè ragazzi Qua taglio E vi faccio vedere Direttamente quando arriverò Dall'altra parte Perché tanto Ci perderò un pomeriggio intero Qui per fare sta cosa Cosa posso giocare? Dei comandi abbastanza ignobili Oh e dai E neanche riesco a salire su questo Figuriamoci E vaffanculo E vaffanculo Oh 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 Porco Black Mesa è un gioco di merda C'è ma lì da arrivare al gioco Quando ci arrivo Oddio E adesso da che parte Dovrò saltare? Di qua? Di là? No ragazzi Non lo so Forse avanti Ho paura Ci ho messo un quarto Dovrò di arrivare fino a qua Non posso sbagliare No 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 Mi faccio salva partita No Salva Solo scrivi Saved Vediamo se considera il checkpoint o se mi fa ripartire proprio da qui Ma comunque Oh More difficult Oddio sarà bloccato Calmo Oddio Ah è vero vedi che funziona Adesso allora se devi scaricare lì salvo lì Pensa quando ho buttato No vado Calmo Salva assolutamente Non ricordo qual era il tasto del salvaggio rapido Dovrei imparare Se lo scrivi Se f qualcosa Ma vieni Ma chi sono Ok Andiamo un po' con l'occasione Guarda il tasto del salvaggio rapido F6 Proviamolo subito F6 Saved Perfetto Ok Ci ho detto c'è una porta Una simpatica porta E Ok E ora c'è Una scala Ok Ok So Hello Grazie a tutti